Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per immergerci in un argomento che può realmente trasformare il modo in cui affrontiamo le sfide quotidiane, il pensiero laterale. Se siete stanchi degli stessi approcci convenzionali e volete sbloccare nuove prospettive nella vostra vita siete nel posto giusto. Preparatevi per un viaggio esplorativo nel mondo del pensiero laterale e soprattutto per imparare come sviluppare abilità di problem solving innovative che vi porteranno un passo avanti. Chi di noi non si è mai trovato davanti a un problema apparentemente insolvibile? A volte la soluzione può sembrare nascosta proprio sotto il nostro naso ma spesso siamo vincolati a una mentalità tradizionale che ci impedisce di vederla. Oggi parleremo di come il pensiero laterale può rompere queste barriere invisibili e aprirci a nuovi orizzonti di possibilità. Se questi argomenti ti interessano e vorresti dare uno sguardo più dettagliato clicca sul link in descrizione e acquista il nostro libro di mentalità vincente. Potrà esserti molto utile durante il viaggio verso il tuo successo personale e professionale e detto questo basta perderci in chiacchiere. Iniziamo! Il pensiero laterale è come una boccata d'aria fresca nel mondo delle soluzioni convenzionali. Si tratta di un approccio mentale che si discosta dalla logica lineare tradizionale aprendo strade inaspettate e creative per risolvere problemi. Quando ci imbattiamo in una difficoltà spesso ci concentriamo su un unico percorso logico. Il pensiero laterale invece ci invita a guardare al di là di quell'unica strada e a esplorare nuove prospettive. Immaginate il vostro problema come un labirinto. Il pensiero tradizionale potrebbe essere rappresentato da un percorso prestabilito mentre il pensiero laterale è come riuscire a vedere le pareti del labirinto come superfici trasparenti. Vi permette di guardare da diverse angolazioni individuando scorciatoie o soluzioni che inizialmente potrebbero sembrare irraggiungibili. La chiave del pensiero laterale è la creatività. Si tratta di guardare oltre i limiti convenzionali e di essere aperti a idee fuori dagli schemi. In un mondo che spesso richiede soluzioni innovative il pensiero laterale diventa una competenza cruciale per superare gli ostacoli in modi nuovi ed eccitanti. Pensate a un problema che avete risolto di recente. Quante strade avete esplorato prima di trovare la soluzione? Il pensiero laterale può essere particolarmente utile in situazioni in cui la risposta non è immediatamente chiara incoraggiandovi a esplorare nuovi modi di affrontare il problema. Prima di procedere prendetevi un momento per riflettere su una situazione in cui il pensiero laterale avrebbe potuto fare la differenza. Forse avete già sperimentato questa forma di pensiero senza rendervene conto. Condividete le vostre esperienze nei commenti così possiamo imparare insieme. Ora che abbiamo una comprensione più approfondita del pensiero laterale esploriamo alcuni suggerimenti pratici e esercizi che potete integrare nella vostra vita quotidiana per sviluppare abilità di problem solving innovative. Il pensiero laterale prospera quando siamo disposti a uscire dalla nostra zona di comfort. Provate, rompete la routine quotidiana. Fate qualcosa di diverso, prendete una strada alternativa per andare al lavoro, cercate nuove attività che vi mettano alla prova. Questo aiuterà a stimolare la vostra mente e a creare nuove connessioni neurali. Allenare il pensiero laterale significa imparare a porre domande insolite. Invece di chiedervi solo come risolverò questo problema, domandatevi piuttosto quali sono le soluzioni più insolite possibili. Lasciate che la vostra mente vaghi liberamente senza limiti iniziali. Questo esercizio di brainstorming vi aiuterà a sviluppare una mentalità più aperta. Sfide complesse richiedono spesso un pensiero laterale. Affrontate rompicapi, cruciverba o enigmi che richiedono un approccio creativo. Questi giochi non solo allenano il vostro cervello, vi insegnano a guardare al problema da diverse prospettive. Provate, prendete un concetto o un problema e associatevi mentalmente qualsiasi cosa vi venga in mente, anche se sembra non avere senso. Questo tipo di associazione libera stimola la vostra creatività e può portare a collegamenti inaspettati che potrebbero rivelarsi chiavi per risolvere il problema. Prendete situazioni quotidiane e cercate di risolverle con un approccio completamente nuovo. Immaginate di essere un personaggio di un film, un supereroe, un esploratore spaziale e pensate a come loro risolverebbero il problema. Questo esercizio ludico vi aiuterà a sganciare la mente dalle restrizioni convenzionali. Dopo aver esplorato queste strategie, cercate di applicare il pensiero laterale alle vostre sfide quotidiane. Forse avete un problema lavorativo o state cercando nuove idee per un progetto personale. Mettete in pratica queste tecniche e vedrete come il vostro approccio diventerà più flessibile e creativo nel tempo. E così, amici, giungiamo alla fine del nostro viaggio nel mondo intrigante del pensiero laterale. Spero che durante questo percorso abbiate trovato stimoli per sfidare le vostre convinzioni, scoprendo nuovi orizzonti di creatività e innovazione. Abbiamo iniziato definendo il pensiero laterale come un approccio mentale fuori dagli schemi, un viaggio attraverso percorsi non convenzionali di risoluzione dei problemi. Ma questo non è solo un discorso teorico. Abbiamo gettato le basi per una pratica quotidiana del pensiero laterale, dalla rottura delle routine alla stimolazione di domande creative. Abbiamo messo alla prova la nostra mente, allenando la creatività come chiave per sbloccare soluzioni uniche. Adesso, prima di salutarci, vi lancio una sfida. Portate con voi quello che avete imparato oggi e applicatelo nella vostra vita quotidiana. Affrontate le sfide con uno sguardo nuovo, abbracciate la diversità di prospettive e lasciate che la vostra creatività danzi attraverso le difficoltà. Vi ringrazio per aver condiviso questo viaggio con me. Continuate a esplorare il vostro pensiero laterale e che ogni sfida vi porti a nuove avventure di creatività. Alla prossima, esploratori di possibilità.